Domani dalle 7 alle 23 gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche di 2018 con cui si rinnoveranno il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Con le operazioni di voto si sceglieranno 630 deputati e 315 senatori. A rappresentare nei due rami del Parlamento i cittadini della campagna saranno in totale 89 tra deputati e senatori. Alla Camera dei 60 seggi disponibili 22 proverranno dal sistema uninominale 38 da quello proporzionale mentre i senatori saranno complessivamente 29 11 dall'uninominale 18 dal proporzionale. Lo scrutinio avverrà al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Per l'elezione della Camera dei Deputati la scheda è rosa, per l'elezione del Senato la scheda è gialla. Ciascuna scheda in un rettangolo ha il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. Nel rettangolo o nei rettangoli sottostanti sono invece riportati il simbolo della lista o delle liste collegate al candidato uninominale con a fianco i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. L'elettore potrà votare apponendo un segno sulla lista prescelta, il voto si estenderà anche al candidato uninominale collegato. Oppure potrà apporre un segno su un candidato uninominale e il voto si estenderà alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Il voto è valido anche se si apporre il segno sia sul candidato uninominale che sulla lista o su una delle liste collegate. Non è invece possibile il voto disgiunto. È vietato poi iscrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi altra indicazione. La nuova legge prevede un sistema elettorale misto sia alla Camera che al Senato. Un terzo dei seggi è assegnato con il sistema maggioritario, due terzi con il proporzionale. Con il sistema maggioritario in ciascun collegio viene eletto un solo candidato, quello che ottiene più voti. Con il sistema proporzionale a ciascuna lista o coalizione di liste sono assegnati i seggi in proporzione ai voti ottenuti, calcolati a livello nazionale e poi redistribuiti nelle singole circoscrizioni. Ogni candidato che concorre con il sistema maggioritario è identificato sulla scheda elettorale perché il suo nome è scritto dentro un rettangolo che non presenta simboli ed è collocato in alto rispetto alla lista o alle liste collegate. Ogni lista o coalizione di liste è poi collegata ad un solo candidato. Con il sistema maggioritario sono assegnati 232 seggi alla Camera, 116 al Senato. L'assegnazione dei restanti seggi del territorio nazionale avverrà poi con il metodo proporzionale in collegi plurinominali.